Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di estorsione aggravata dal metodo mafioso, la squadra mobile della questura di Catania ha tratto in arresto Alfio Napoli, nipote acquisito di Gimmi Miano, insieme con altri taglieggiava ormai dal 2009 una farmacia del capoluogo Etneo. Sentiamo tutti i particolari da Mario Grasso. Estorsione aggravata dal metodo mafioso, questa l'accusa di cui dovrà rispondere Alfio Napoli, 47 anni, catanese, con precedenti, nipote acquisito dello storico bosso del clan dei cursoti milanesi, Luigi Miano, detto Gimmi. Napoli è stato ammanettato la scorsa notte dalla squadra mobile Etnea su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura distrettuale antimafia di Catania. Detto Codimulu, è stato ammanettato perché avrebbe svolto il ruolo di esattore del clan, taglieggiando il titolare di una farmacia sin dal 2009. 200 euro al mese, questa la somma pattuita, secondo quanto comunicato dagli inquirenti. La svolta nelle indagini, portate avanti dalla sezione anti-racket della squadra mobile di Catania, si è avuta con l'arresto in flagranza di reato di un uomo del clan, Vincenzo Piazza, 43enne, ammanettato lo scorso 10 gennaio immediatamente dopo aver riscosso il pizzo dal farmacista per garantire l'attività da sgradite sorprese e prima che potesse scappare via a bordo dello scooter su cui era arrivato sino in prossimità della farmacia. Una cadenza mensile ormai ben salda, secondo quanto rilevato dalla polizia, che prevedeva la consegna dei soldi ogni giorno 10 del mese, banconote occultate all'interno delle scatole di farmaci. Alfio Napoli era tornato libero dopo essere stato arrestato il 28 gennaio del 2015 nell'ambito dell'operazione Final Blow della squadra mobile nei confronti di 27 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, spaccio di sostanza stupefacente, tentato omicidio, detenzione di armi presumibilmente appartenenti al clan dei Cursoti milanesi. Il personale del commissariato di Librino ha eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare emesso alla Procura della Repubblica nei confronti di Sergio Larosa di 33 anni. L'uomo riconosciuto colpevole in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso nella 2017 ha riportato una condanna per due anni e sei mesi di reclusione e si trovava già ristretto a domiciliare per questa causa. ha ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare dalla Tribunale di sorveglianza e la Rosa scontrerà il residuo della pena nella propria abitazione fino al prossimo dicembre. Adesso andiamo invece a Ragusa perché la Procura del Posto ha disposto l'autopsia sul corpo del bimbo di sei mesi trovato morto martedì sera in un'abitazione di Comiso. Il piccolo abitava con la mamma di origine rumene e il suo compagno di origine tunisine. L'abitazione è stata sequestrata e sia la madre che il suo convivente sono stati interrogati per ore dagli inquirenti. Sentiamo Filippo Romeo. Resta ancora senza un perché la morte di un bimbo di sei mesi trovato martedì scorso in casa a Comiso nel Ragusano con un braccino rotto. Il piccolo abitava qui con la madre di origini rumene insieme al nuovo compagno di lei un tunisino. La Procura Iblea ha aperto un fascicolo contro i gnoti e disposto l'autopsia. L'incarico è stato affidato al professor Giulio Di Mizzio dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, un esperto in questo settore, come conferma il procuratore di Ragusa Fabio Danna. Ieri l'attacca eseguita nel Policlinico di Catania aveva riscontrato nel piccolo la frattura di un arto. Resta però ancora da accertare se sia avvenuta prima o dopo la morte. L'abitazione della coppia è stata posta sotto sequestro su disposizione del PM Santo Fornasie che sta coordinando le indagini. Sia la madre che il compagno di lei, che al momento non risultano indagati, sono stati interrogati per ore. Stando a quanto riferito dalla donna, sarebbe stata lei ad aver chiamato l'ambulanza del 118 alle 16 di due giorni fa, giorno del decesso del bimbo. Secondo la sua versione, dalle 4 del mattino dopo che lo aveva allattato per l'ultima volta e rimesso a letto alle 16, non avrebbe più verificato le sue condizioni. Il bambino pare che al momento dell'arrivo dei sanitari fosse già morto da diverse ore. Cos'è accaduto in quest'arco di tempo e perché il piccolo aveva un braccio rotto? Interrogative ai quali cercheranno di dare una risposta agli investigatori impegnati da martedì scorso nel ricostruire la triste vicenda. Adesso andiamo nel Messinese a Patti per l'esattezza dove la Guardia di Finanza ha sequestrato sei autovetture con targa estera ma guidate da cittadini italiani, secondo quanto previsto dal decreto sicurezza alla fine di contrastare il fenomeno dell'esterovestizione. La Guardia di Finanza di Patti nel Messinese ha sottoposto a sequestro sei autoveicoli in attuazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto sicurezza relative alla circolazione sul territorio italiano delle auto con targa estera. Il decreto, entrato in vigore nell'ottobre scorso, tra le altre cose ha rinnovato l'articolo 93 del Codice della Strada, di fatto vietando ai soggetti residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, tranne nel caso in cui siano in grado di dimostrare la riconducibilità del mezzo ad una società di leasing o a altra impresa estera ma senza sede in Italia. La modifica dell'articolo 93 è stata adottata al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione delle automobili. C'è quel comportamento messo in pratica da soggetti che, nascondendosi dietro lo schermo di una targa estera, risparmiano illecitamente sul costo del bollo, sulle spese di assicurazione, al fine anche, ma non solo esclusivamente, di sottrarsi a multe e sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Secondo quanto confermato dalla Guardia di Finanza, l'utilizzo di un veicolo con targa estera può essere un modo per nascondere una proprietà, nascondere la reale capacità economica di un soggetto e rendere, quindi, più difficoltoso il servizio dell'amministrazione finanziaria, volto a far emergere le forme illecite di guadagno e di impiego di denaro. Tra le vetture sequestrate dalla Guardia di Finanza di Patti figurano un Audi A1 e un fuoristrada Mitsubishi Pagero, i cui valori di mercato superano i 25 mila euro. Gli automezzi erano condotti da persone residenti in Italia, malgrado risultassero intestati ad altri soggetti residenti in paesi esteri. La maggior parte delle autovetture ritirate dalla circolazione dalla Guardia di Finanza messinese riportava targhe tedesche o polacche. Il personale della squadra Polizia di Frontiera Aerea durante i controlli documentali effettuati nei confronti dei passeggeri in arrivo da Dubai ha proceduto all'arresto e contestuale sottopossizione agli arresti domiciliari di un passeggero. Si tratta di Carmelo Di Leo, 29 anni, latitante dalla 2014, in quanto lo stesso era destinatario di un ordine di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare disposta agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Catania per i reati in materia di stupefacenti. Andiamo avanti adesso, parliamo di migranti. 41 di questi, tra quelli che erano a bordo della nave di Ciotti, che lo ricorderete la scorsa estate per giorni fu costretta a rimanere ancorata alla porto di Catania, adesso hanno chiesto addirittura all'Italia un risarcimento economico. La vicenda della nave di Ciotti all'ancora al porto di Catania per diversi giorni nello scorso mese di agosto continua a dettare i tempi della politica italiana. E' di questa mattina infatti la notizia secondo la quale alcuni migranti che erano a bordo della nave hanno presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Roma per chiedere al Governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo quanto si apprende dal Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della Diciotti e che ora chiedono per la privazione della libertà personale al Premier Giuseppe Conte e al Ministro dell'Interno Matteo Salvini un risarcimento tra i 42.000 e i 71.000 euro. 16 di questi migranti risultano essere nati l'1 gennaio, coincidenza della quale si starebbe appurando alla veridicità. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in campagna elettorale in Sardegna ha presa la notizia del risarcimento, così commenta, permettetemi di rispondere con una grassa risata, tutti nati il 1 gennaio, tutti scomparsi, non prendessero in giro gli italiani, la pacchia è finita, i barconi non arrivano più, al massimo gli mandiamo un bacio per Uggina. Dopo essere scesi dalla Diciotti a seguito del provvedimento adottato dal Governo italiano, dopo gli accordi internazionali sulla distribuzione dei migranti, gli stranieri erano stati rifugiati nelle strutture di Baobab Experience in attesa del trasferimento. Oggi la clamorosa richiesta di risarcimento. Contiene un disagio all'aeroporto internazionale di Fontana Rossa a Catania, dietro fronte dopo la riapertura totale che c'era stata in mattinata. L'unità di crisi infatti ancora una volta ha limitato all'operatività dello scalo a partire dalle 11 di oggi. Ritardi e disagi di ieri si sommano dunque a quelli odierni. Il tutto causato dalla cenere dell'Etna. Sentiamo l'aggiornamento. Momenti critici a Fontana Rossa a causa della persistente attività dell'Etna con emissioni di cenere, nome e limitazioni dello spazio aereo questa mattina. A comunicarlo nell'ultimo aggiornamento ufficiale la SAC sulla base delle valutazioni dell'unità di crisi per la sicurezza, chiuso un settore e quattro atterraggi all'ora. Un rapporto inversamente proporzionale è quello che lega il traffico aereo e l'eruzione del vulcano che da giorni tiene ai massimi livelli l'attenzione dei vertici. Una situazione in continua e repentina evoluzione legata all'imprevedibilità dell'Etna. Per questo si invita a verificare lo stato del proprio volo online e sui social network dello scalo oltre che attraverso la compagnia di viaggio. Problemi per il volo stamattina? Ma non lo so, ora vediamo, ancora non mi hanno detto ne sei ritardo, niente. Sì, no, a momento tutto ok, però non sappiamo. Giornata difficile, quella di oggi per i passeggeri in arrivo, ma ritardi e incertezze riguardano anche chi è in partenza. Per alcuni la vacanza all'estero rischia di saltare o, nella migliore delle ipotesi, trasformarsi in un viaggio infinito. Due ore di ritardo, doveva partire alle 7 e arrivare qui a un quarto alle 9 e invece è partito alle 9 e mezza e siamo arrivati a 11 e un quarto. Prima da Verona, ci siamo imbalcati all'orario corretto, però sì, prima il dubbio se l'aeroporto fosse aperto, chiuso per via della cenere lavica, poi la nebbia a Verona e quindi, prima azioni, sì, sì, però per fortuna ce l'abbiamo fatta, è uno di sera. Sì, c'è un leggero ritardo, ho visto la partenza per Roma, spero, 45 minuti perlomeno adesso, spero perché c'è un volo per andare, se è una coincidenza per andare all'estero. Disagli oggi? Sì, sto arrivando con un'ora di ritardo da Fiumicino, quindi causa cenere, sì. Il problema è che ci hanno fatto salire sull'aereo pensando di essere puntuali, quindi alle 9, quando poi è partito alle 10 siamo rimasti lì fermi, immobili, con le cinture di sicurezza allacciate per ore. Abbastanza, saremmo dovuti partire alle 6 del mattino, poi alle 12 e ora forse all'una perché noi abbiamo una coincidenza. Dovevamo fare originariamente Catania-Linate e poi Linate-Madrid. Ora dovremmo fare Catania-Roma e se ci arriviamo, sperando che ritardano lì a Roma, Madrid forse. Vedo che l'avete presa con filosofia. Sì, e che dobbiamo fare? Due giorni di ferie, li dobbiamo spendere, no? E adesso invece andiamo a Pedara dove i netturbini del Comune incrociano le braccia lamentando il mancato pagamento di ben sette mensilità. Sorpreso di questa iniziativa il Vice Sindaco e Sessore all'Ecologia Francesco Laudani che pensava invece di aver raggiunto un accordo con i rappresentanti sindacali e di aziende a cui aveva presentato un piano di rientro. Daniela Cantarella. Sul sito del Comune di Pedara l'annuncio ai cittadini di non esporre i rifiuti per la raccolta differenziata oggi 21 febbraio a causa dello sciopero annunciato degli operatori ecologici. La protesta si è svolta questa mattina di fronte al Palazzo di Città. Una decina di dipendenti dell'azienda Ecolandia, subentrata quattro anni fa nel Comune, ha incrociato le braccia per rivendicare le sette mensilità non percepite. Un problema, affermano i rappresentanti sindacali, che va avanti da tre anni. A dicembre i dipendenti hanno percepito lo stipendio di giugno, una settimana fa, quello di luglio. A nulla, denunciano i netturbini, sarebbero serviti diversi piani di rientro presentati nel tempo dall'amministrazione. Da oggi proclamano lo stato di agitazione. Abbiamo deciso di fare questa giornata di sciopero perché non abbiamo avuto le garanzie per quanto riguarda il piano di rientro che il Comune ci ha proposto. Effettuiamo questa giornata di sciopero e nel frattempo vediamo se, come ci ha detto il sindaco, riuscirà ad effettuare questo piano di rientro. Un'iniziativa che ha di fatto sorpreso l'assessore all'ecologia Francesco Laudani, il vice sindaco, era certo di aver raggiunto un accordo lo scorso 7 febbraio con i rappresentanti sindacali e d'azienda nel corso di una riunione a cui avevano preso parte anche la responsabile del settore finanziario e il sindaco. Nell'occasione, informa l'assessore Laudani, era stata presentata una proposta dove si garantiva il pagamento delle mensilità correnti più la bozza di un piano di rientro apparentemente accettato da tutti. Come amministrazione siamo vicini all'oro. Per quanto riguarda lo sciopero è stato per noi un fulmino al cessereno perché abbiamo avuto un incontro giorno 7 febbraio proprio qui al Comune dove abbiamo illustrato la proposta assieme alla dottoressa Greco del piano di rientro che l'amministrazione intende fare. Questo piano di rientro che consiste nella garanzia di comunque pagare il mandato della gestione corrente ed inoltre prevedere una quota pari a 50.000 euro per 20 rate al fine di poter ridurre se non eliminare questo arretrato. L'altro lei mi diceva che c'era un'altra opzione che potrebbe anche far decadere questa proposta e dare quasi tutto subito. Sì, la legge di bilancio del 2019 prevede proprio la possibilità che i Comuni, le province possono chiedere un'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti. Noi ci stiamo ovviamente attivando subito la scadenza del 28 febbraio quindi stiamo preparando tutti gli atti al fine di poter accedere a questa anticipazione e questa anticipazione verrà calcolata da parte della Cassa Depositi e Prestiti sulla base delle fatture che noi inseriremo in piattaforma. Quindi avendo questa anticipazione sicuramente, penso totalmente, verrà estinto questo debito. Da parte mia ma da parte anche del sindaco è stato detto durante la riunione fatta al Comune e comunque confermato l'altro ieri in Prefettura. E erano tutti d'accordo? E agli atti non ci risulta nessuna comunicazione durante la riunione. Non c'è stato detto nulla. Successivamente, subito dopo gli incontri, abbiamo ricevuto questa lettera che comunicava lo sciopero. Ovviamente i problemi saranno grossi. Cambiamo argomento. Sicilato un accordo tra la regione siciliana e l'ex provincia per il ripristino della rete stradale dell'isola che dovrà avere i crismi dell'efficienza e della sicurezza. L'hanno annunciato il governatore Nello Musumeci e l'assessore alle infrastrutture, Marco Falcone. Il governo regionale siciliano ha promosso una convenzione che vede come interlocutore la regione stessa e l'ex provincia dell'isola per ripristinare quanto prima una rete di strade provinciali efficiente e sicura. Il documento è venuto fuori da un incontro svoltosi tra il governatore siciliano Musumeci, l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone ed una rappresentanza dei commissari straordinari dei liberi consorsi dei comuni. Il piano prevede decine di interventi di ripristino e messe in sicurezza di quelle strade provinciali divenute ormai un colabrodo e che spesso presentano buche pericolose per gli automobilisti. Vista la condizione in cui si trovano ormai da tempo le ex province, la regione ha riscontrato la necessità di sostituirsi all'ente intermedio per la riqualificazione della rete viaria. Adesso con questa convenzione, la regione potrà intervenire in maniera concreta con un piano per la viabilità che in tempi brevi dovrà avviare i cantieri in almeno decine di arterie. In tal senso, come ha sottolineato lo stesso Nello Musumeci, la regione va incontro agli enti locali per tutte quelle attività di progettazione che gli stessi non riescono a completare per mancanza di tecnici o professionalità specifiche e adeguate. In tal modo si cerca di risolvere le criticità del territorio con opere canterabili in tempi brevi e che siano in linea con le disposizioni del governo e le necessità dei cittadini. Soddisfatto di questa soluzione, anche l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, che in una nota sottolinea come questa collaborazione accelererà di gran lunga i tempi perché le province hanno due tipi di problemi. Da un lato quella della mancata possibilità di accertamento delle somme in entrata a causa dei bilanci non approvati. È particolare, non indifferente, una accertata carenza di personale. Anche sul territorio catenese la precarietà di molte arterie viari è accertata. Si tratta quindi adesso di un primo importante passo per tamponare, se possibile alleviare, una criticità divenuta cronica negli ultimi anni. E a proposito di strade, andiamo adesso in pieno centro ad Acireale con queste immagini girate stamattina da Piero Pennisi. Siamo in via Paolo Vasta, all'altezza dell'ufficio postale centrale di Acireale dove, come vedete, alcune basole di pietra lavica del selciato stradale sono sprofondate. E' un fenomeno che si è già verificato alcuni anni addietro. Ovviamente la strada, come vedete, è stata transennata, chiusa al traffico. Situazione di pericolo che bisognerà verificare nel breve, visto che in corso anche il più bel carnevale di Sicilia, proprio in questo periodo, un problema similare di strutture si era avuto qualche tempo fa nella vicina e adiacente Piazza Garibaldi. ovviamente sono in corso le verifiche del caso per capire cosa effettivamente sia successo e per apportare gli interventi necessari. Rientriamo in studio adesso, andiamo a Zafferana Etnea. Il terremoto di Santo Stefano, oltre a compromettere l'agibilità di centinaia di abitazioni con migliaia di sfollati, ha seriamente danneggiato anche il tessuto economico e paesaggistico dei territori colpiti dal sisma. Considerevoli danni alla viticoltura, che occupa una grossa fetta dell'economia locale. Ha fatto il punto sulla questione. Salvo Cotoli. Ai danni considerevoli alle abitazioni, con migliaia di sfollati, il terremoto di Santo Stefano ha causato ingentissimi guasti alla produzione vitivinicola del comprensorio dell'Etnea. A rischio la produzione dei vini DOC, la denominazione di origine controllata, in questi territori risale addirittura al 1968 una delle prime aree dell'isola ad ottenere la certificazione. A Fleri, frazione di Zafferana Etnea, i moretti a crudo di vitigne, fruttete e a terrazzamento sono crollati. Non meno grave la situazione nelle cantine, specie quelle più antiche, risalente agli inizi del Novecento, come la tenuta dei baroni di Francicanava, storica azienda locale, che si estende su 25 ettari lungo il crinale della montagna, su un terreno fertile e baciato dal sole tutto l'anno. Qui si produce rosso, bianco e rosato DOC, vini molto apprezzati, capaci di ritagliarsi importanti spazi di mercato in Italia e all'estero. Un appaziente costante lavoro che la baronessa Carmela Francicanava porta avanti con grande passione da generazioni, impiegando decine di lavoratori nella gestione quotidiana dei 43 mila cespi di vite nel pieno rispetto della tradizione di famiglia. Il sisma del 26 dicembre ha vanificato il lavoro di un'intera stagione. Il crollo delle pareti interne del palmento e quelle dell'antico locale di imbottigliamento sventrate e dichiarate inagibili al momento non sono praticabili. Persi 10 mila litri di vino per la ricostruzione ci vorrà tempo e tanto denaro. Da una prima stima si parla di oltre mezzo milione di euro per mettere in piede l'attività enologica. All'arma produttori e agricoltori, il crollo dei terrazzamenti sbriciolatesi su più punti. A lamentare distruzioni sono in tanti. A Pisano si registra una situazione simile. Qui si imbottiglia vino pareggiatissimo, sempre a denominazione di origine controllata. L'intero comparto vitivinicolo delle zone terremotate è in ginocchio, i paesaggi sfregiati, la peculiare ruralità mortificata. Nella tenuta Francicanava incontriamo Giuseppe Torrisi, enotecnico e collaboratore di fiducia dei baroni. Giuseppe Torrisi è l'enotecnico che si occupa per conto della baronessa Francicanava, storica famiglia di produttori vitivinicoli e non solo di questa proprietà, che è una proprietà di quanti ettari? Tutta l'azienda è 25 ettari, 7 sono dedicate a vigneto, tutto doc, sia il bianco, il caricante e poi facciamo pure un rosato e un rosso, Danielello Mascalese. L'altra parte sono frutteti, pere, pesche e cilicete pure. Dunque qui il giorno dopo, la notte di Santo Stefano, la mattina successiva, quando lei è venuto a vedere i danni alla proprietà, ha trovato una catastroca? Un disastro, un disastro. Ho visto la prima parte della cantina che già faceva paura e poi avvicinandone la campagna, man mano che si faceva il giorno, ho visto che tutti i muri, tutti i terrazzamenti erano crollati. Qui la ricostruzione costa tanto e fattile? Tantissimo, tantissimo, perché si parla che ci sono circa, ho calcolato, un 6 mila metri quadrati di muretti di terrazzamento crollati, che si dovrebbero ricostruire, quindi si immagina la spesa già solo per ricostruire questo a quando potrebbe ammontare. E qui stiamo soltanto nella parte che riguarda i frutteti, adesso andiamo a vedere i vitigni. Ma la situazione più grave si registra nelle aree dei vitigni, a monte con le filiere murari a secco crollate per centinaia di metri e l'inevitabile erosione del terreno a cadere delle prossime piogge. E' un lavoro di priorità che si dovrebbe fare nell'immediato, almeno prima che inizi la fase vegetativa delle piante. Però non abbiamo le forze, nemmeno le disponibilità burocratiche che ci aiutano a farci partire per il lavoro. Storia, cultura, religione ed economia a Fleri si intrecciano inevitabilmente con il baronato. Qui nel 1943, gli eredi del cardinale Francicanava nascosero all'interno di un pozzo le reliquie e parti dei tesori di Sant'Agata. E adesso invece parliamo del Carnevale di Mister Bianco, evento che entra nella lista dei Carnevali Storici d'Italia. E' tutto pronto per la 32esima edizione che aprirà i battenti proprio in occasione dell'imminente weekend. A Mister Bianco, cittadino alle porte di Catania, fra tradizioni e new entry, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con un grande e atteso evento. Il Carnevale dei costumi più belli di Sicilia. Si parte domenica prossima, 24 febbraio, forti di una novità su tutte. La manifestazione Mister Bianchese entra a far parte ufficialmente della lista nazionale dei Carnevali Storici. L'annuncio del Sindaco oggi in conferenza stampa. Quest'anno abbiamo avuto il riconoscimento di essere iscritti all'alba nazionale dei costumi del Carnevale Storici d'Italia. Quindi andiamo avanti con gioia e soddisfazione. Nella sede del suggestivo Museo del Costume di Carnevale, il luogo che è motivo di orgoglio per la città, oggi è stato presentato nel dettaglio il programma del Carnevale 2019. Novità al defile di moda e per il sesto anno una giornata interamente pensata per i bambini. Siamo poi giovedì, avremo la giornata dei bambini. Tutte le scuole organizzano i propri alunni con costumi bellissimi e sarà un giorno dedicato ai bambini e alle scuole. Poi sabato abbiamo una grande novità, ci sarà una sfilata di oltre 100 costumi per un defile particolare, senza carri, ma solo maschere che si concluderà in via Gramisci e ci saranno vari ospiti importanti. Ci sarà una bellissima serata, sabato 2. Poi avremo domenica, ci sarà sfilata ancora. Anima del Carnevale è giunto alla 32esima edizione. La responsabile dell'assessorato ai grandi eventi, Rosa Vitale. Oggi se avessi avuto qua presente a Totò Schillaci avrei detto, caro Totò, vedi c'è una cosa che ci accomuna, tu hai una passione per il calcio, io ho la passione per il Carnevale. Ecco, quello che vedete dal museo del costume a tutto il resto è frutto di una grande passione. insieme a me hanno questa grande passione, sono diventati testimoni della creatività del nostro Carnevale nel mondo, tutte le maestranze che lavorano a questo Carnevale. Lei ha detto poc'anzi che ha indossato questi costumi, cosa si prova? Esattamente, io per anni, fino al 2000, ho su strada indossato questi magici costumi, ti senti protagonista, non c'è dubbio. In quel momento avverti che tutto il mondo ti sta osservando, il mondo che ti circonda, la gente che ti plaude, è una sensazione magica. 720 costumi, 5 le associazioni protagoniste della sfilata Carnascialesca in strada con una New Entry. Tematiche innovative, una delle associazioni, la New Entry, porterà sulle strade il meraviglioso mondo della Thailandia con tutti i suoi colori. E' chiuso il sipario, a Mr. Bianco i costumi più belli andranno a rappresentare l'Italia in Tunisia, il Carnevale internazionale che si tiene a marzo a Jasmine. Un premio sarà consegnato al consule tunisino Mr. Francis Pulicino. Il servizio era di Sara Rinaudo, adesso continuiamo a restare in atmosfera Carnascialesca, fabbrica di coriandoli, un nostro viaggio nel mondo della produzione artigianale dei coriandoli. Ad Acireale, dagli anni 60, in via Cavour, la storica tipografia Massimino ha avviato l'attività che rifornisce i venditori di coriandoli della manifestazione acese. E non solo, siamo andati a curiosare. Non c'è Carnevale senza coriandoli. Ad Acireale, da vent'anni, la produzione artigianale dei caratteristici tagli di carta colorata nella bottega del Cavaliere Giuseppe Massimino, appassionato tipografo da generazioni, colora le giornate Carnascialesche di grandi e piccini. Fabbricazione a gestione rigorosamente familiare, a trasformare milioni di piccoli frammenti di carte e fogli preventivamente colorati e questo rumorosissimo attrezzo meccanico che ogni giorno punzona decine di chili di finissima carta di varie colorazioni confezionate in varie misure rivendute al dettaglio direttamente nella bottega o in grandi quantitativi ai rivenditori dei tipici box distribuiti sul circuito del Carnevale. Da qualche anno la produzione è aumentata, la merce richiesta è smerciata anche nelle altre cittadine in cui si organizzano eventi analoghi. Una economia tutt'altro che disprezzabile rota attorno ai coriandoli per soddisfare il fabbisogno dell'isola festaiola servirebbe una produzione di almeno 100.000 kg. Nella bottega di Massimino l'infernale martingegno ne sputa 20 kg l'ora. A quanto pare nessuno è riuscito ad inventare qualcosa di più efficiente. Praticamente la macchina è degli anni 60. Nessuno ancora è stato capace di inventare qualcosa di meglio perché penso che sia una formula matematica. Sono quattro cerchi e nel centro c'è la stella quindi sono dei punzoni che tagliano regolarmente la carta. E quanto ne produce in un giorno? Diciamo che la macchina fa 10 kg ogni mezz'ora quindi 20 kg l'ora, due sacchi perché i sacchi sono tutti catalogati ogni colore. Ho visto che la pesate. Sì, la case rigorosamente. Sia i sacchetti piccoli che i sacchetti grandi vengono pesati. In quello grande ce n'è circa un chilo. In questo di qua, quello più piccolo ce ne mettiamo nella media 300 grammi. E lei è il primo che ha avuto questa idea qui ad aciliare che ormai insomma da un bel po' di tempo, no? Diciamo che, diciamo, non il primo perché col passato la carta colorata c'è stata, però non con questi colori forti perché noi praticamente la carta la compriamo bianca, la coloriamo noi perché c'è una macchina dall'altra parte di colorare la carta e facciamo i colori che stabiliamo noi. Però è un po' rumorosa, l'accende, lo vogliamo fare sentire ancora ai nostri telespettatori. E per carnevale questa, diciamo, fabbrichetta artigianale, conduzione familiare, quanto produce? Diciamo che noi per carnevale facciamo intorno ai 10.000 chili di coriandoli. Tenga presente una cosa, per la Sicilia, per tutta la Sicilia, ci vogliono almeno 100.000 chili di coriandoli. C'è un mercato che si potrebbe aprire perché fa economia in quel periodo. Si potrebbe aprire, però praticamente il consumo poi diventa restretto a una quinta cita di giorni. Se prendiamo qui a De Cereale che ci sono 7, 8, 10 giorni quando escono i carri, cioè la vendita è lì, in quel momento. Però è una bella vendita. E' una bella vendita, sì. Vengono molti ragazzini qua ad acquistare direttamente. Sì, noi facciamo il sacco grande di 10 chili per la gente, che un po' tutti si possono guadagnare qualche cosa di soldi. E poi di soldi, ma tanti e tanti vengono anche di fuori, vengono, ma ecco, la conoscono la fabbrica e vengono compresse direttamente qua, la guariandoli in fabbrica. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti. L'appuntamento con il telegiornale si conclude qui per adesso. Vi ricordo che la seconda edizione andrà in onda in diretta più tardi, a partire dalle 19.45. Vi ricordo che potrete seguire questa edizione sul nostro sito rettv.it e sulla pagina ufficiale Facebook. Vi lascio, come di consueto, alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Buon poveriggio. Cielo sereno, poco nuvoloso sulla Sicilia nella giornata del 22 febbraio 2019. Il sole si alternerà con le nubi, i mari saranno comunque calmi. Temperature previste nelle medie stagionali. A Catania si andrà da una minima di 9 a una massima di 16 gradi. La temperatura minima più bassa ad Enna, dove si prevede un meno 2, con 9 di massima. A Catania si andrà da una massima di 16 gradi. A Catania si andrà da una massima di 16 gradi.